Con la qualificazione già in tasca, le Final Six di Rio de Janeiro, l'Italia di Mauro Berruto torna in campo per l'ultimo weekend di World League 2015. Dopo l'affascinante doppia sfida di Roma e Firenze, gli azzurri affrontano nuovamente la Nazionale Verde Oro, giovedì 2 luglio e venerdì 3 luglio, Cuiaba, Brasile-Italia, una doppia sfida all'insegna dello spettacolo.